La crisi energetica che sta investendo il mondo attualmente ha un forte impatto sul nostro settore e sinceramente ne sta anche minando la esistenza. Tutto questo purtroppo avviene in un momento in cui siamo ulteriormente penalizzati o meglio preoccupati per il momento dal fatto che il nostro settore ha un importante progetto di decarbonizzazione da portare avanti. Le stime che il nostro settore ha fatto con KPMG, uno studio specifico sviluppato a proposito, dicono di possibili investimenti all'ordine di 4,2 miliardi di Euro da qua al 2050 per la cattura e la decarbonizzazione del settore e in aggiunta costi operativi in crescita di circa 1,4 miliardi di Euro. Come capite sono numeri assolutamente importanti che in assenza di una chiara programmazione e misure adeguate potrebbero ulteriormente minare la nostra sopravvivenza. È un vero peccato perché questo avviene anche contestualmente a tutte le buone notizie che ci venivano dalla PNRR dove fondi importanti erano stati allocati per il settore delle infrastrutture e le costruzioni quindi con grande impulso potenziale per portare avanti tante di quelle opere che da tempo si sapeva essere in previsione di realizzazione che quindi sembrava veramente arrivato il momento giusto e opportuno per portare avanti. Quindi questo è un'ulteriore sconfitta in questo momento che speriamo veramente possa essere in qualche modo mitigata perché sarebbe un vero peccato perdere questa grandissima opportunità. I rischi per il settore sono chiari ed evidenti ormai da tempo. Questa situazione di forte impatto sulla struttura dei costi e quindi alla competitività del settore porta chiaramente un serio rischio legato fondamentalmente all'importazione. Il nostro settore è un settore esposto in maniera sempre più crescente all'import import che è ovviamente facilitato dalla natura orografica dell'Italia. Sappiamo che abbiamo 8.000 km di costa, siamo il paese del Mediterraneo più facilmente accessibile via mare. Un tempo non si faceva, oggi il cemento viaggia su navi e viene trasportato da un punto all'altro del mondo e quindi è qualcosa che è cambiato anche in quel senso. È un vero peccato perché sostanzialmente veniamo attaccati da paesi extraeuropei principalmente, quindi extra UE, che sono paesi non assoggettati alla normativa ITS e che sostanzialmente non hanno questo obbligo di aderire o di onorare i costi per l'emissione CO2 e che quindi hanno un forte vantaggio, se posso così dire, competitivo in questo momento dovuto a questa particolare situazione. Tutto questo porta a che cosa? Porta ovviamente un rischio di impoverimento del tessuto industriale italiano perché se il nostro settore viene contratto e contratto fino al punto di riempicciolirsi fino al perdere interesse strategico degli investitori e quindi a scomparire vorrebbe dire in qualche modo consegnare il nostro approvvigionamento di un materiale così strategico e importante come il cemento o il manufatto, il clinker, in mano a delle società straniere e quindi ad altri paesi e questo, fatemi sottolineare, avviene in un momento in cui sinceramente quasi ogni giorno sentiamo parlare di reshoring, quindi di riposizionamento sul continente di attività che siano manifatturiere, produttive, eccetera e soprattutto un termine molto comune ultimamente che è la cosiddetta autonomia strategica questo è esattamente l'opposto, quel di cui invece stiamo parlando stiamo parlando proprio del rischio di andare fuori dal nostro paese e questo è un vero peccato, è un vero peccato perché ci stiamo credo tutti rendendo conto di cosa voglia dire, dipendere dall'import, dipendere da qualcun altro che porta un prodotto così importante come il cemento sul nostro territorio in aggiunta a questo ci sono tanti altri rischi che si sovrappongono se avvenisse appunto questo cosiddetto carbon leakage e quindi diciamo la produzione del prodotto in altri paesi innanzitutto è un qualcosa di inefficiente dal punto di vista delle emissioni di CO2 appunto perché ovviamente si tratta di produrre in paesi che sono probabilmente soggetti a normative meno stringenti, non solo ci sono i trasporti quindi le emissioni legate al trasporto quindi dal punto di vista del bilancio globale è sicuramente peggiorativo rispetto a quelli che facciamo in Italia ma in aggiunta, ripeto, ci sono anche questioni legate per esempio alla qualità alla stabilità dei flussi di importazione, alla gestione di tanti altri fattori che sicuramente porterebbero una situazione peggiorativa rispetto a quella attuale quindi ritengo che vada prestata grande attenzione a questo rischio perché è un rischio oramai reale ed è un rischio che deve necessariamente essere mitigato in questo momento abbiamo diverse proposte sul tavolo posto che riconosciamo che il governo ha dato dei segnali di supporto direi il più importante di quali appunto la proposta di credito d'imposta per il primo e il secondo trimestre del 22, del 20 e del 25% sui costi dell'energia elettrica però riteniamo che a fronte della chiara degenerazione della situazione avvenuta con lo scoppio della guerra in Russia e Ucraina è evidente che queste forme di supporto non sono più sufficienti e non possono più bastare per permetterci di scongiurare dei rischi peggiori per il nostro settore abbiamo necessità di azioni più forti, di azioni più strutturali, azioni più di lungo termine che ci permettono di guardare con maggiore confidenza e certezza al futuro in quest'ambito io direi che sicuramente sarebbe interessante analizzare la possibilità di appunto di destinare al settore energivori come il nostro le energie prodotte tramite energie rinnovabili o per esempio anche quelle prodotte, l'energia elettrica prodotta tramite centrali idroelettriche se ci fosse appunto una possibilità di dare qualche forma di aiuto o di facilitazione in questo senso quantomeno appunto per traghettarci con un costo mediato l'energia più accettabile di ciò che abbiamo al momento ma non è solo questo abbiamo anche necessità di agire su altri fronti ed è estremamente importante per questioni di natura ancora più strategica il primo, come accennavo prima, è il fatto dell'import l'importo in Italia che cresce a doppia cifra rappresenta qualcosa che sarà insostenibile già per il medio termine per cui è necessario che si accelerino le azioni in corso per l'introduzione del cosiddetto C-BAM o Cross Border Adjustment Mechanism cioè un sistema di protezione per le importazioni con opportuni dazi introdotti abbiamo inoltre bisogno di un'azione chiara e definitiva per l'inclusione del nostro settore nell'ambito dei settori riconosciuti per la compensazione dei costi indiretti della CO2 nella produzione di energia elettrica questo ancora non avviene ed è un qualcosa che ci preoccupa moltissimo ed è necessario porre in essere un rimedio immediato ci stiamo muovendo a questo riguardo a livello sia nazionale che europeo e non nego che c'è una discreta preoccupazione anche su questo da ultimo una terza misura appunto altamente strategica se posso dire ed è quella dei costi della decarbonizzazione abbiamo detto che sono costi dell'ordine 4 miliardi di euro e oltre spesso sono stime per difetto e qui è necessario mettere in atto delle misure strutturali importanti per sostenerci da un punto di vista sia finanziario che di regolamentazione in modo tale da poter evitare ritardi o inefficienze del sistema che si tramuterebbero poi in un non rispetto dei tempi previsti L'utilizzo dei combustibili alternativi è un punto estremamente importante soprattutto ora direi ancora più di quanto lo era sei mesi fa perché? perché noi utilizziamo principalmente combustibili di origine fossile e principalmente appunto in Italia si utilizza petcock che è un derivato della produzione dell'estrazione del petrolio e questo petcock proviene generalmente dal Golfo del Messico o comunque dal Centro America e ne utilizziamo, stimiamo come associazione circa 1,1 milione di tonnellate l'anno se facciamo una media di circa 150 euro per tonnellata pagata vediamo che abbiamo una bolletta petcock dell'ordine 165-170 milioni annui ora immaginando una sostituzione del 60-70% di questo petcock e quindi mettendoci un po' in linea con dei paesi virtuosi dell'Unione Europea noi stimiamo che potremmo risparmiare una parte importante di questo ticket il petcock dell'ordine di 130 milioni di euro e quindi tutto ciò sarebbe circa un 7% del fatturato di settore qualcosa di assolutamente non trascurabile che ovviamente avrebbe impatti solo ed esclusivamente positivi e tutto questo sostituendo il petcock con cosa? sostituendo con i combustibili solidi secondari che ben noto siano originati o meglio composti da materiali che non hanno più vita utile sono giunti al termine della loro vita utile come definiti ma che hanno ancora un residuo un residuale potere calorifico che può essere utilizzato nei nostri impianti con grande soddisfacimento sia nostro appunto perché ci permettono di sostituire questi prodotti fossili ma anche e soprattutto da un punto di vista della cosiddetta energia circolare perché permetterebbero di salvare un'importante importantissima quota parte di questi materiali che oggi come oggi vanno a discarica alimentando quindi un'ulteriore problematica e ricordo anche che da un punto di vista delle discariche l'Italia se non sbaglio paga già oggi alcune decine di milioni euro l'anno di multe per il non rispetto della chiusura di un certo numero di discariche quindi diciamo abbiamo una sorta di tempesta perfetta a cui avremo una soluzione perfetta in questo momento che purtroppo però non sembriamo in grado di utilizzare ho parlato di petco che ho parlato di costi ovviamente perché in questo momento è un momento di caro bolletta è ovvio che tutto questo deve essere necessariamente la priorità dobbiamo pensare al fatto di risparmiare ma vorrei anche parlare dal punto di vista ambientale dal punto di vista ambientale che è il solito messaggio che noi sosteniamo la possibilità di utilizzare questi combustibili solidi secondari ci permetterebbe di dare importanti contributi al risparmio di emissioni emissioni di CO2 e tutto questo continuiamo a ripetere è un obbligo che noi abbiamo un obbligo morale come imprenditori come produttori perché è necessario per il progresso è necessario per portarci avanti sulla strategia sulla roadmap della decarbonizzazione e sappiamo quanto importante sia il contributo dei combustibili solidi secondari in questo senso per la parte appunto legata al processo del nostro ciclo produttivo delle stime ci dicono che una sostituzione appunto dell'ordine del 60-65% ci potrebbe portare a un risparmio di circa 7 milioni di tonnellate l'anno di CO2 qualcosa di estremamente importante per il nostro settore ricordo ancora una volta come già più volte espresso che noi l'Italia è il fanlino di coda in Europa per quanto riguarda i tassi di sostituzione dei combustibili solidi secondari utilizziamo una media italiana del 20% a fronte di una media europea del 50% con paesi come la Germania o l'Austria che sono sul 60-70% quindi tutto questo mostra ancora una volta che ciò si può fare a fronte di un quadro normativo chiaro ben delineato, ben definito, rispettato e che sia il punto di riferimento senza ambiguità senza possibili malinterpretazioni da parte di nessuno quindi gli altri paesi ci stanno mostrando che questo può essere fatto è venuto il momento che ciò venga fatto anche in Italia venga data appunto libertà all'utilizzo di questi combustibili sotto appunto una normativa e nel rispetto dei limiti che sono stabiliti